Il problema del randagismo, soprattutto felino in tempi di normale svolgimento della nostra vita sociale, è un problema, maggiormente poi ora che la nostra mobilità ai tempi del coronavirus è limitata. Problema che in parte viene mitigato grazie al prezioso lavoro di volontari che mettono a disposizione il loro tempo e spesso anche le loro risorse economiche e personali per dare assistenza a povere bestiole che altrimenti andrebbero incontro a fine certa. I volontari sono anche sentinelle dei loro quartieri come la signora Dina di 74 anni che investe da una vita i suoi denari per i mici del quartiere della Paleotta e che conoscono anche tutte le situazioni, anche purtroppo incresciose, che si verificano sotto casa loro, come quella pubblicata sui social da un altro volontario che si occupa proprio del randagismo felino. Sono qui in via del Domenichino, zona Paleotta di Fano, dove una settimana fa, sempre con il ruolo di volontario, cioè nel senso che spendo i miei soldi e il mio tempo, e d'accordo con Asur di Fano, che non riusciva a catturarlo, sono riuscito a catturare un gattino che aveva perso un occhio. Allora, questa via è ad altissimo traffico e adesso ve la inquadro, così adesso vedo se Facebook mi fa girare l'inquadratura. Ok, questa è la via dove vedete c'è un camioncino che è l'unico riparo per i gatti, i gattini, però questo camioncino spesse volte chiaramente non c'è perché questa persona va a lavorare. Allora, questo gatto, nonostante le nostre reiterate richieste, è stato riportato questa mattina su decisione della dirigente comunale in questa via, che secondo lei dovrebbe diventare una colonia felina. Siccome è già successo svariate volte che sono stati salvati dei gatti e in gattina non c'era posto, io stesso avevo salvato una gattina che poi è finita nella statale, nonostante le mie tantissime richieste di portarla in una struttura, non vi dico come l'ho ritrovata, a novembre dell'anno scorso, loro continuano nella loro politica. Al gattile di Fano non c'è mai posto e secondo la dirigente questo dovrebbe diventare una colonia felina, una zona, questa è una colonia felina a bordo strada dove tra l'altro il prossimo anno verranno fatti dei lavori, fra pochi mesi anzi, in quella palazzina lì, quindi ci sarà anche un cantiere. Ecco, secondo loro questo sarebbe una colonia felina, quindi noi salviamo gli animali che poi vanno a finire rimessi per strada. Questo gatto, ripeto, non ha un occhio e quindi non avendo praticamente un occhio, secondo loro qui non è in pericolo. Ecco qua, questa è via del Domenichino e questa è come il comune di Fano, secondo loro vogliono, ecco, queste dovrebbero essere persone che tutelano gli animali, questo è il loro posto, senza camioncino, neanche un riparo per mangiare.